Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, come potete vedere anche oggi la location è esotica però ero a Milano per lavoro, dovevo ritornare a Napoli ma purtroppo non so quello che mi sta succedendo se andate a seguire le storie di Instagram, comunque non mi sento bene, febbre, cose che non vi sto qui ad annoiare quindi sono rimasto una notte in più in hotel sperando domani sentirmi meglio e tornare finalmente a casetta però ho il computer e ho detto non me la sento nonostante sto una schifezza di lasciare i ragazzi senza l'analisi di questa promo ovvero i winter wild cards, ovvero un po' diciamo la promo che secondo me racchiude l'hype che c'era intorno ai fire e freeze perché abbiamo dei sensibili aumenti in questo caso sia per quanto riguarda le skill e il piede debole sia in particolar modo perché abbiamo tutta una serie di novità e in più di carte molto interessanti che rendono il tutto molto 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 appetibile quindi come prima cosa io vi vado ad analizzare cosa sono i jolly ovvero quella schermata che avete sicuramente avuto nel momento in cui avete aperto fifa non sono altro che una sorta di swap ok che è possibile riscattare attraverso obiettivi e attraverso sbc che saranno utilizzati per riscattare dei pacchetti che verranno messi poi sul gioco il 26 dicembre quindi a santo stefano e che potremo andare ad aprire solamente avendo riscattato questi jolly quindi fate i vostri jolly per quanto riguarda invece le carte abbiamo veramente dei giocatori niente male il primo lo vedete a schermo ed è ovvero neymar che passa dalla posizione di esterno in questo caso alla posizione di attaccante e spicca quel 97 di tiro 87 di tiro scusatemi ovvero addirittura un più 2 che però se noi andiamo a vedere all'interno della carta onestamente non è che va a modificare più di tanto perché comunque la finalizzazione era buona e passa da 85 a 88 la potenza tiro che è sempre stato il tallone d'achille di neymar passa semplicemente a 83 di base già la carta if per me poteva tranquillamente fare la punta molto meglio della carta ovviamente oro quindi questo qui tocca andare ad analizzare un attimo la situazione prezzo perché visto il cambio di ruolo io credo che volerà veramente in alto però secondo me il buon neymar ovviamente qualora ve lo riusciate a portare a casa vi siete portati al momento una delle migliori punte del gioco salvo fatto quello che è il problema relativo alla potenza tiro la seconda carta che andiamo ad analizzare è il polpo Pogba e anche qui direi che siamo in presenza di una carta stratosferica perché prende più 11 in velocità più 3 di tiro, 3 di passaggio, 4 dribbling, 15 di difesa e 3 di fisico quindi cosa succede? Arriva 89 di speed speed però il problema è il 70 di accelerazione che lo rende sempre un po' stentante soprattutto sul primo passo nonostante poi le lunghe leve gli permettono sicuramente di recuperare abbiamo un 88 di agilità unito comunque un 92 di forza e un body type più importante che non lo rendono il giocatore più agile del mondo sicuramente però stiamo parlando di una carta di assoluto valore io credo che per via della nazionalità, dell'hype, del campionato e ovviamente del giocatore costerà tantissimo toccherà provarlo però io vi posso dire già così che onestamente credo che il prezzo non varrà troppo la candela perché comunque se guardate le stats ha 80 di mentalità difensiva ho 80 di intercettazioni, insomma le stats ci sono però non sono neanche tali secondo me da andare a giustificare il prezzo al quale andrà questo Pogba così come invece è una carta discretamente interessante quella del buon Coman che prende un bel upgrade in piede debole e diventa 4-4 diventa attaccante e si becca un più 2 di velocità un più 7 di tiro, più 1 di passaggio, 2 dribbling, 2 difesa e 8 di fisico quindi stiamo parlando di un giocatore che vista anche la nazionalità può essere facilmente ibridato ha 84 di finalizzazione e 90 di potenza tiro passaggi anche discreti, buona agilità questo può essere giocato tranquillamente sia da seconda punta ma io lo preferisco di gran lunga in fascia finalmente ha ricevuto quegli upgrade necessari appunto a farlo giocare sul lato esterno del campo prossimo giocatore che onestamente faccio fatica a commentare è il buon Fabinho perché diventa COC a caso dalla posizione di mediano prende un più 20 per quanto riguarda la velocità un più 18 di tiro, un più 8 di passaggio, più 12 di dribbling più, anzi scusatemi, meno 20 di difesa e un più 2 di fisico e onestamente qua parliamo di un giocatore che voglio dire per il ruolo che andrà a ricoprire con 85 di forza 89 di agilità parliamo di un giocatore di 1,88 non è che ci vedo questo grandissimo senso peccato perché se l'avessero messo invece con diciamo stats un po' più difensive sarebbe stato sicuramente meglio il buon Fabinho prossimo giocatore a rimpolpare un centrocampo di Serie A che è già nurtissimo di talenti è Milinkovic Milinkovic che però secondo me anche in questo caso insomma ci mette di fronte a una carta che prende degli ottimi upgrade però viste le alternative visto che sì visto Barella visto Tonali eccetera eccetera considerando anche quella che è la nazionalità di Milinkovic e la squadra io non mi sento di consigliarvi più di tanto perché è vero sì che diventa 4 skill e 5 di piede debole però secondo me qualità prezzo andranno molto meglio quelli che sono gli altri giocatori che vi ho citato in precedenza passiamo avanti e abbiamo il buon Spinazzola che addirittura riceve un 5 di skill perché è bello fare le skill sulla fascia con Spinazzola prende dei bei upgrade in particolare 4 velocità 4 dribbling 4 difesa 7 fisico 4 di tiro e 7 di passaggio va a fare diretta concorrenza a Teo Teo dalla sua c'ha sicuramente quello che è il triangolo con Chessy magari Tomori Cordoba eccetera insomma giocatori che gli danno legami forti per metterlo in ibride però Spinazzola insomma si candida ad essere sicuramente un suo antagonista è una validissima alternativa al terzino francese del Milan su Tarabd onestamente del Benfica mi verrebbe poco da dire vista anche la nazionalità la carta è vero sì 5-4 ma insomma lascia veramente il tempo che trova il buon Tarabd mentre invece andrei a valutare questo in barba che rimpolpa un po' il diciamo scarno reparto di esterni soprattutto in Liga motivo per il quale insomma questo si becca un 4-4 più 10 di tiro 5 passaggio 10 fisico 5 difesa 6 dribbling 7 velocità vi devo dire per quello che costa mi sembra un discreto esterno ovviamente non è che sto qua a dire prendete sto in barba mettetelo di trovare però se ve lo ritrovate magari non scambiabile potrebbe dire tranquillamente la sua Pau Francesco Torres 78 di velocità difensore centrale becca più 7 di velocità buoni upgrade soprattutto a difesa e fisico però anche qua rimane il problema di accelerazione velocità scatto che onestamente in un reparto difensivo soprattutto in Liga che mette davanti dei giocatori come Quondé onesto non lo vado a consigliare perché giocatore molto molto average oltre che anche spagnolo rispetto a Quondé che è francese è più difficile da ibridare Semedo incredibilmente recupera un piede e torna a 90 di velocità anche qua parliamo di sicuramente un ottimo giocatore che può tranquillamente dire la sua in fascia come terzino destro per quanto riguarda la Premier qualora vi serve anche un portoghese da voler ibridare quindi sicuramente Semedo mi sento di consigliarvelo visto che comunque le stats sono tutte buone pecca un po' di passaggio lungo però ha ottime stats difensive anche 91 di aggressività per cui dovrebbe risultare anche abbastanza automatico in game bell'upgrade anche per il buon Brill Envolò che rispetto alla carta 81 si becca 5 di velocità 7 tiro un passaggio 7 dribbling 3 difesa e 3 di fisico 3 di skill 4 di piede debole per lui insomma una carta che rimane abbastanza così 1,87 1,87 92 di forza non mi verrebbe da consigliarvelo da punta perché il classico attaccante abbastanza pesante che non c'ha questa grande resa purtroppo su FIFA così come Mussani Akate si va a inserire in un reparto anche lui difensivo di Bundes dove è veramente pieno di talenti parliamo di un giocatore che è 1,90 m statistiche difensive per carità della Madonna lui però si può tranquillamente andare a provare perché ha tutte le stats al punto giusto la difesa la velocità c'ha anche degli ottimi passaggi incredibilmente anche un grande 80 di agilità 86 di aggressività 91 di forza quindi bel difensore questo Niakate che si inserisce prepotantemente nel discorso di difensori per quanto riguarda la Bundesliga abbiamo poi Tu Anzebe questo talentino classico giocatore alla Joe Gomez più 5 di velocità 10 dribbling 12 difesa 11 fisico 11 passaggio bel giocatore devo dire la verità 1,85 m quindi è praticamente un Joe Gomez toccherà vedere il prezzo ma credo che sarà direttamente concorrenziale quindi sarà da provare però Tu Anzebe è sicuramente un giocatorino niente niente male all'interno di questa promo abbiamo poi Franca Cianpong anche qui nazionalità e campionato parlano per lui quindi non mi sento di consigliarlo prima di dire due parole su Zaa per Messias vale come al solito il discorso che essendo un giocatore obiettivo vi consiglio di sbloccarlo anche solo per tenere nel club poi una bella cartina questa qui di Messias mentre per quanto riguarda Zaa mi sento di dire che ricevete bei upgrade 4 velocità 8 tiro 4 dribbling 5 di fisico 7 passaggio e 8 di tiro qui l'unico problema oltre che diventa 5-4 l'ultimo l'unico problema di questo Zaa è come al solito l'82 di reattività che un po' lo rende insomma pesante con un body type particolare però di base anche lui può tranquillamente fare la punta può tranquillamente fare l'esterno il cercino per via dei passaggi però non costa manco tanto quindi consigliato il buon Zaa per quanto riguarda raga questa promo è tutto perdonatemi la rapidità ma le condizioni sono precarie vi ricordo in descrizione e nei commenti di farmi sapere cosa ne pensate salutone al vostro Riberovski ci vediamo presto in live appena riesco a tornare ciao ciao